Silvia Bertini è il segretario generale del Consiglio regionale. A lei chiediamo, questa sera noi avremo i risultati noti e conosciuti, ma in realtà non sono risultati ufficiali che hanno valore legale, per così dire. Dobbiamo aspettare che le autorità competenti li validino e ci sia la proclamazione. Quindi cosa avverrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, prima dell'avvio effettivo della decima legislatura? Dunque noi aspetteremo in effetti le proclamazioni da parte dell'autorità competente e poi, avute tutte le proclamazioni, si procederà nel primo giorno non festivo della seconda settimana successiva all'ultima proclamazione, alla prima seduta della nuova assemblea. E quindi si può già ipotizzare quale sia il giorno in cui presumibilmente potrà aversi la prima seduta del Consiglio, la seduta di insediamento? Si può auspicare che con tre settimane si possa risolvere, tre settimane dalle elezioni, è auspicabile che tutto possa essere risolto tre o quattro settimane successive al giorno delle elezioni, diciamo. E la convocazione del Consiglio, del nuovo Consiglio, da chi verrà fatta, da chi verrà firmata? La convocazione del nuovo Consiglio verrà firmata dal Presidente del Consiglio uscente, che ai sensi di statuto è appunto il soggetto titolato ad adempiere a quest'atto. Grazie a tutti!